Torniamo a parlare di diabete, sono sempre di più i casi sommersi, allora l'appello qual è? Che in questo momento nel mondo sono oltre 500 milioni di diabetici, quindi è una vera e propria pandemia se la vogliamo chiamare così, come d'altronde anche in Italia sono oltre 3 milioni e mezzo, probabilmente entro il 2030 arriveremo a 5 milioni, quindi la prevenzione sarebbe fondamentale, prevenzione soprattutto nell'ambito del diabete tipo 2, cioè del diabete che deriva in età, ora si stanno abbassando l'età, una volta era sopra i 35, sopra i 40 anni, adesso purtroppo si sta abbassando perché? Perché i problemi più grossi sono legati all'obesità, a stili di vita e alimentari sbagliati che possono quindi favorire questo famoso diabete tipo 2 che è il diabete, una volta era il diabete dell'età adulta ma ora come ripeto si sta abbassando. Ecco ma ci sono campanelli di allarme diciamo così banali che un cittadino può riconoscere? Se hai per esempio una grande sete, se tendi a essere piuttosto rallentato in certi momenti della giornata, ecco queste sono le due cose che difficoltà di concentrazione nell'arco della giornata, sono condizioni che possono indicare. Quali sono le questioni rimaste ancora aperte per chi soffre di diabete e che vorreste insomma che venissero accolte anche dal sistema sanitario? Beh purtroppo oggi si paga qualsiasi cosa, parliamoci chiaro, oggi con i tempi che corrono pagare anche cose che sono necessarie per la tua vita diventa difficilissimo. In molti casi la mia preoccupazione è che si evita di farle, evitando di farle magari ci si ritrova in momenti pericolosissimi di complicanze dove non si può più uscire. Come associazione avete però una convenzione? Sì abbiamo una convenzione sia con le farmacie comunali che con le farmacie private di un 10% secondo in alcuni casi anche qualcosa di più su prodotti da banco che servono a diabetici perché spesso i diabetici per alcune situazioni hanno bisogno di creme e di altre cose. Quindi l'invito qual è? Comunque a rivolgersi ad un'associazione come la vostra perché almeno a livello informativo insomma le informazioni non costano nulla mi verrebbe da dire. No, però l'importante è che si sia fatto questo collegamento con le farmacie di comunità che stanno diventando sempre più importanti per i territori. Le farmacie di comunità offrono consigli fatti da un medico che in alcuni casi è molto meglio che fatti da un'associazione che è informatissima, non ci piove però chiaramente un medico dà più certezze e l'associazione è presente per quanto riguarda le informazioni abbiamo fatto un depliant bellissimo che spiega cos'è il diabete però oltre certi limiti anche perché dobbiamo dircelo chiaramente siamo pazienti diabetici e non siamo medici. Ecco sul fronte delle informazioni a chi si possono chiedere e con quali modalità? Allora le modalità è tramite i vari canali quindi le persone si possono recare direttamente qui da noi con appuntamento telefonico insomma contattandoci e saremo liati appunto di andare a valutare con voi questo parametro così importante per la popolazione.